Insieme si soffre la pace che nasce da Lui per noi. Fratelli, la fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Lo incontreremo sul volto di ogni uomo. Carissimi fratelli, il verbo che appena ho usato è quello che mi sta più a cuore, raccontare. E vorrei raccontarvi alcune situazioni che ho vissuto, di cui sono testimone e che mi hanno segnato in questi dodici anni. Prima di tutto sono felice della vostra presenza. L'Europa sta vivendo, meno l'Europa capuccina, sta vivendo un momento di passaggio. Stiamo diminuendo numericamente, ma abbiamo anche voi. E voi mi date la speranza che c'è un futuro per i capuccini in Europa. Sarà diverso, forse avremo meno case, ma saremo più fratelli nel senso che faremo dei cammini insieme, andremo oltre i confini. Io credo che questo incontro l'abbiamo voluto nel Consiglio Generale perché sia un incontro che getta le basi, consolida il cammino che vogliamo fare insieme in Europa. Allora, io vi racconto. Vi racconto alcune cose che mi hanno segnato e che credo hanno veramente a che fare con la nostra vita. Prima di tutto vorrei parlarvi di Paul Hambridge, un fratello australiano che ha vissuto prima qui in collegio e poi è venuto in curia generale ed era il nostro archivista. Purtroppo è morto nel frattempo. Io da un po' di anni in qua ho cercato e cerco il mattino di iniziare le mie giornate un po' prima delle sei con un periodo di mezz'ora, quaranta minuti di silenzio. Ma immancabilmente, quando arrivavo in coro alle sei meno un quarto, sei meno dieci, Paul c'era già. E aveva una piccola lampadina con la quale illuminava il suo testo ed era lì da chissà quando. A me questa fedeltà, avere un fratello che mi ha dato questa semplice testimonianza, mi ha toccato. Mi ha toccato e quando lui stava per morire, perché era segnato dal tumore, sperava di farcela, gli ho scritto. Gli ho scritto e gli ho detto, guarda, io ti ricorderò come colui che mi ha edificato. Certo, da qui la domanda fondamentale che dobbiamo porci sempre è a chi ho dato la mia vita? A chi sto donando la mia vita? E la risposta può essere una sola in quanto consacrati. La mia vita la do a Dio e all'umanità. Però non credo che basti rispondere in questo modo. Credo che dobbiamo anche porci la domanda da che cosa mi rendo conto di averla data a Dio? O che la sto donando tutti i giorni a Lui? Quali sono i gesti, i segni che manifestano questo filone, no? Che mi tocca dal di dentro, dal profondo. Io, cari giovani, mi direi non accontentatevi di partecipare unicamente ai momenti di preghiera che sono prescritti. Fai qualcosa di più. Fai qualcosa di tuo. Qualcosa che ti segna. Qualcosa a cui ci tieni ad essere fedele. Perché questo è il fondamento della nostra vita. A chi hai dato la tua vita. A chi la stai donando. Poi, adesso vi porto in Austria. Leibniz. Leibniz è un bel conventino in Stiria a poca distanza dalla Slovenia. Credo che qualcuno di voi è di Leibniz, no? Einer von euch è di Leibniz. O di Leibniz. O di Leibniz, non? Da è ero. Guardate, lui viene da Leibniz. A Leibniz sono stato tre settimane fa e il mattino, come vi ho detto, mi piace andare un po' prima in coro. Vado in coro, mi raccolgo e poi arriva Bonifaz. Bonifaz ha 92 anni. Con uno straccio in mano comincia a spolverare tutti i banchi. Io mi sono detto ma è incredibile 92 anni inizia la giornata con un servizio ai fratelli. Questa è vita fraterna. Questa è l'obbedienza caritativa. Fare qualcosa per i miei fratelli senza che mi sia stata chiesta. Senza che sia stato il guardiano o il maestro a dirmi di farlo. Cioè la vita fraterna si costruisce su questo. Su gesti gratuiti. Sulla capacità di accoglierci. Di perdonarci. Di interessarci alla vita dell'altro. Qualche volta a tacere. Per lasciare parlare anche gli altri. La vita fraterna è un cantiere. Ma non è un cantiere come quello di questo collegio che a un certo punto il cantiere è finito. Si è costruito. La vita fraterna è un cantiere permanente. Ed è come dire è esigente perché chiede a ciascuno di noi questa capacità di stare con l'altro. Di prendere il mio posto. Ma di lasciare che l'altro prenda il suo posto. Ci vuole una sensibilità. e soprattutto un grande spirito di osservazione. Ma in questo senso quello che facciamo insieme quello che facciamo gli uni per gli altri ha un impatto importante. quello che sto verificando è che dove le fraternità vivono insieme si impegnano assumono anche gli impegni quotidiani molto semplici che sarà la cucina o la polizia questo ha un impatto. La gente lo vede. Ed è la predica più forte che facciamo. ma io penso che la vita fraterna non è fine a se stessa. La vita fraterna è fatta proprio per per modellarci per far sì che diventiamo ovunque fratelli cioè capaci di relazione e per fare questo è indispensabile fare un lavoro su noi stessi. perché mi sembra che San Bernardo diceva che se in una comunità va tutto liscio bisogna trovare un personaggio un po' difficile da metterlo dentro lì in modo tale che bisogna confrontarsi con lui e per crescere. Per voi che siete in formazione il suggerimento più importante e bello che vi posso darvi lasciatevi formare. Cioè accettate che qualche volta vi venga detto caro mio su questo punto bisogna lavorare guardarsi dentro. Questo è fondamentale se vuoi diventare realmente un fratello un uomo capace di relazione. Poi capace di relazione vuol dire che che noi ovunque saremo cercheremo di promuovere rapporti di fratellanza che se domani sarai parroco ti starà a cuore collaborare coinvolgere non fare le cose da solo. Cioè fraternità diventa un modo di essere un modo di rapportarsi agli altri un modo di proporre un mondo diverso. E questo me l'ha ricordato con estrema semplicità ovvietà un fratello 92enne con un gesto per me inaudito. Poi vorrei portarvi molto più lontano siamo in Europa e la presenza più a nord in Europa dei nostri frati è l'Islanda. Qui ci sono i fratelli slovacchi dove sono? Alzatevi un momento voglio vedere i fratelli slovacchi su piedi grazie 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 perché perché i fratelli slovacchi quelli che sono partiti sono quattro che stanno attualmente in Islanda sono stato a trovare insieme a Stefano il nostro vicario generale poi l'ho mandato anche a Natale a stare con loro potete immaginare tu arrivi a Reykjavik poi devi prendere un piccolo aereo attraversare tutta l'isola per arrivare in un luogo dove stanno i frati in uno dei fiordi dell'Islanda i nostri fratelli in Islanda beh uno il pioniere di questa spedizione David è il vescovo ormai ma ci sono tre fratelli che vivevano in questa piccola fraternità e loro si occupano principalmente dei cattolici sono quasi tutti degli immigrati si occupano di una parrocchia che si estende per 700 chilometri di coste di fiordi con più o meno 700 cattolici questi quando ci sono le buffere di neve in inverno di solito sanno quando partono ma non sanno quando rientreranno con loro una sera ho vissuto una cosa che mi che mi ha toccato profondamente siamo andati a cenare con quattro operai polacchi polacchi grandi dei polacchi che lavorano nelle acciaierie o nelle fabbriche di alluminio e quella sera abbiamo vuotato qualche bicchierino di vodka abbiamo cenato molto semplicemente e poi a un certo punto hanno tirato fuori le foto dei loro familiari e tu vedevi gli occhi brillare diciamo mia figlia studia medicina a Varsavia mamma mia ha detto se noi frati nel nostro esserci esserci per gli altri avessimo dentro questa passione fare un sacrificio di essere molto lontani da casa ma lo so per chi lo sto facendo questi nostri frati sono andati al servizio di persone di questo genere e penso che tra di noi ci sono figli dell'immigrazione e sanno cosa voleva dire anche il papà è lontano ma è lontano anche per te questo sapere per chi sto vivendo per chi sto anche privandomi di cose belle e importanti perché cresca qualcuno e in questo senso i nostri frati fanno un servizio bellissimo veramente questi stanno realizzando quel detto che ho ripetuto più volte andare dove nessuno vuole andare e di fatto io so che gli slovacchi discutono molto su questa loro presenza c'è stato anche qualche momento che vogliono farli tornare a casa queste qui sono le fantasie di David ma David ha fatto una scelta molto coraggiosa andare dove nessuno vuole andare e questa è una delle caratteristiche dei cappuccini lo ha detto Pio XII nel 1949 ci fu un incontro e lui disse laddove nessuno vuole andare dove le cose sono più difficili si trova un cappuccino ecco io mi auguro vivamente che ci sia dato di continuare questa tradizione poi uno di questi giorni si parlerà anche della missione ma là dove nessuno vuole andare poi un altro luogo dove nessuno vuole andare Pasqua di quest'anno Pasqua di quest'anno l'ho vissuta a Tiaret Tiaret lui c'è stato Tiaret Tiaret è a 250 km a sud di Orano in Algeria ci sono quattro frati tre francesi e un fratello polacco Hubert Le Bouquin che è il vicario generale di una diocesi molto estesa ma con pochissimi cattolici c'è René Chopard 84enne che prende il bus e fa sette ore di bus ogni mese per andare in due fraternità di sorelle francescane e credo di un'altra congregazione perché possono avere almeno una volta al mese l'Eucaristia 84enne e lo fa con ovvietà poi c'è Marius il fratello polacco una volta quando ero in Polonia ho chiesto chi è disposto ad andare nel mondo musulmano e tre alzarono la mano e il provinciale mi disse non te li do perché sono i migliori ma loro hanno insistito di voler partire e uno di loro dopo essere stato qui in collegio aver fatto gli studi di francescanesimo adesso sta giusta imparando anche l'arabo e lui lui è il parroco ebbene io ho vissuto i giorni della settimana santa con lui con una comunità di 15 al massimo 20 persone che provengono dall'Africa subsahariana vengono dal Congo dal Camerun e hanno una borsa di studio lì quanto è importante garantire loro una presenza una famiglia un luogo dove si sentono a casa non sentono la pressione che quasi quasi devono convertirsi all'Islam perché altrimenti non ci possono non ci possono rimanere e poi c'è Pascal Pascal Ode che ci è arrivato da poco tempo e sta inserendosi in questo mondo è un mondo eravamo lì a Pasqua immaginate a Pasqua non c'è nessun segno che è festa ok abbiamo celebrato la messa alle due del pomeriggio in dieci persone cinque frati il vescovo un sacerdote che aveva portato con sé e tre sorelle che erano venute dal sud a vivere i giorni della settimana santa insieme ai frati ecco lì ho capito la grandezza di Francesco quando nella regola non bollata al capitolo 16 scrive di quelli che vanno tra gli infedeli e i saraceni e dice che la prima cosa da fare è di vivere fraternamente senza litigare dire che siamo cristiani ma soltanto in una seconda fase se Dio ce lo indica di annunciare il Vangelo apertamente a queste persone è una presenza che esige una profonda convinzione di quello che stai facendo e mi sono accorto che questi frati ce l'hanno perché ho visto la loro fedeltà alla preghiera non portano tanto il nostro abito ma portano quella specie di mantello che portano i marocchini e gli algerini al mattino li vedi seduti per terra con quel capuccio sopra in silenzio per un'ora rien quibouge tutto tutto cosa veramente mi ha detto questo è il luogo dove vanno a prendere la forza per rimanere in un mondo dove tu sei uno straniero rimani uno straniero e la gente non capisce ma perché non sei musulmano qui sono tutti musulmani essere presenti per dire esiste anche l'altro io credo che è un servizio molto forte molto bello e che dovremmo rafforzare ma anche questo vuol dire andare dove nessuno vuole andare poi fratelli vi porto un po' più giù in Africa poi andiamo là sulle isole di Capo Verde e ci sapono i capoverdiani uno su la la bene Capo Verdiani c'è un'isola per andare a Capo Verde da dal Portogallo da Lissabona a Praia l'aereo ho fatto tutta la notte così a un certo punto ho detto speriamo di farcela ma ci siamo ho detto che erano i venti i venti che vengono dai deserti della Mauritania che fanno questo scherzo arrivati là un giorno chiacchierando con un fratello missionario Silvino che ci è andato per essere lui doveva fare il controllo delle radio quindi tecnico però questo fratello Silvino del Piemonte penso che ha sui 50 anni lui adesso 50 anni persona normalissima a un certo punto mi racconta quello che sta facendo mi ha detto che nella città di Mindelo un posto molto bello e sono incantevoli le vostre isole un posto molto bello con la spiaggia sul mare però la periferia della città era suddivisa in bande giovanili che si facevano la guerra l'un l'altro ma la guerra sul serio ci furono almeno sei morti ho sentito per cui la polizia c'era molta repressione a tal punto che i poliziotti dovevano sempre andare col passamontagna perché non venissero riconosciuti perché altrimenti ci sarebbero state le angherie nei confronti dei loro familiari ebbene Silvino mi ha detto con il metodo dell'oratorio poco alla volta sono riuscito a mettere pace cioè cosa ha fatto ha chiesto spazio per farli giocare invece di combattersi ha messo in piedi dei tornei di calcio si è accorto che sono molto dotati infatti la gitarra prima era uno di capoverde che suonava la gitarra che sono molto dotati in questo allora si è avvalso dell'amicizia di un batterista tedesco che abita a Mindelo e questo gli ha procurato tanti strumenti musicali quando ero lì un giorno giunge una famiglia da Hamburg in Deutschland no che ogni anno vengono gli portano 5.000 euro per la sua opera Silvino poco per volta ha messo pace non solo ha messo pace li ha mandati non so quanti a studiare e allora mi sono messo in giro anch'io a cercare a cercare mezzi per sostenere quest'opera perché lo dico perché voi sapete molto bene che Gesù dice beati gli operatori di pace noi nella tradizione francescana dobbiamo avere a cuore questo aspetto qua Francesco che fa aggiungere al cantico di frate sole laudato si e mi signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e doveva con quella strofa mettere pace tra il vescovo e il podestà di Assisi Francesco che mette pace a Gubbio fra la popolazione e il lupo che forse lupo non era ma ero qualche brigante della zona l'opera di pace io ho l'impressione che il nostro ordine sta fortemente clericalizzandosi il grande desiderio di avere quanto prima una stola e la stola mi dà potere quello spirituale ma poca preoccupazione per promuovere la pace per entrare in zona dove ci sono conflitti per mettere pace tra le famiglie perché perché l'eredità divide perché oggi non vogliamo avere stranieri non vogliamo avere asilanti non vogliamo avere persone che sono in difficoltà e hanno bisogno del nostro aiuto il mondo sta diventando un mondo violento noi siamo chiamati a essere uomini di pace promuovere la pace per me è una missione che l'ordine deve prendere a mio avviso molto più sul serio e qui in Europa sarà importante far vedere da che parte stiamo anche se ci poi ci ci disprezzeranno ma tra le beatitudini c'è anche quella beati quelli che sono beati perseguitati nel mio nome opera di pace ma questo l'ho visto anche a Kibera Kibera è uno degli slam di Nairobi uno slam di 700.000 persone immaginate voi entrate casette piccole i tetti in lamiera le defognature che passano a me alle stradine una puzza insopportabile ebbene Isidor che è stato rettore qui ma in quel momento era ancora lui il custode insieme a Benedict che lavora da anni in cura generale come segretario di giustizia e pace mi hanno portato lì dentro e lì dentro hanno riunito ed eravamo seduti stretti con delle panchine strettissime da una parte dall'altra della stradina hanno riunito uomini donne giovani musulmani animisti cattolici protestanti di ogni età che mi hanno raccontato come nel 2007 al momento in cui ci furono le elezioni e ci fu molta violenza morti e la violenza era entrata anche anche nello slam per cui la gente non si sentiva più sicura queste persone che erano state come dire allenate dai nostri frati nel progetto della Damieta Initiative questi nostri frati hanno portato questa gente a comprendere i conflitti ci sono ci sono anche tra di noi no? conflitti ci sono ma come possiamo affrontare i conflitti con la violenza vuol dire eliminare l'altro ma se la scelta è quello della non violenza vuol dire trovare un modo per gestire il conflitto questa gente mentre c'era una grande violenza andava per le strade a dire no non così non in modo violento questo è un lavoro fatto dai nostri frati in condizioni difficilissime fratelli è importante che questa iniziativa che è partita da un fratello irlandese non si spenga deve essere rinnovata per essere veramente costruttori costruttori di pace ma vorrei portarvi ancora in un altro luogo che mi ha molto toccato a Khanur Khanur è nel nord del Kerala in India e a Khanur sono mi hanno portato a vedere l'opera di Stephen Jairagi un fratello indiano del Kerala un convinto siro malabar l'avremo al capitolo generale penso che qualche 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 lotta ce l'avremo ancora tra di noi due perché su un punto non la pensiamo allo stesso modo ebbene questo frate ha raccolto i più poveri i più malandati quelli che la società rifiuta ha creato dei centri di accoglienza e a un certo punto si è messo anche ad accogliere i malati di Sida ma non poteva dirlo doveva tenerli a parte perché se diceva di aver raccolto quelle persone li avrebbero messo fuoco alla casa accogliere l'ultimo il povero questa per me è stata una di nuovo una lezione grandissima e questo continua soltanto che anche in questo caso alle volte l'impressione è che noi frati siamo bravi a organizzare ma poi per starci con i poveri lasciamo dare le suore è invece importante essere con loro questa realtà mi fa pensare molto a Jean Vanier l'Arche pensate che Jean Vanier è partito tredicenne nel 42 da Montreal per andare in Inghilterra a fare la scuola della Marina per diventare ufficiale e suo padre disse ho fiducia in te partì diventa un come dire un militare diventa un ufficiale importante capisce che Dio chiede qualcosa ad altro va in seminario ma capisce che non è il sacerdozio il suo cammino diventa professore di filosofia capisce che nemmeno quello il suo cammino che Dio gli chiede di vivere con i poveri e i poveri anche non solo materialmente poveri ma quelli che sono segnati mentalmente quelli che ti disarmano che ti mettono a nudo che non sono interessati se gli fai un bel discorso o meno ma sei capace di empatia sei capace di stargli vicino ecco io credo che anche questa è una pista che dobbiamo dobbiamo avere presente non solo fare qualcosa per il povero ma stare con il povero condividere la vita con lui e allora questo mi porta a un'altra esperienza nel 2008 non lontano da Roma all'Aquila ci fu un terremoto devastante molti morti e case inabitabili anche il nostro convento nel nostro convento nessuno venne ferito seriamente ma non si poteva rimanere allora voi sapete che in Italia ci sono credo quasi cento conventi cappuccini che sono vuoti allora i frati dall'Aquila avrebbero potuto prendere uno dei vari conventi ma hanno deciso di rimanere di rimanere sotto la tenda o di pernottare nei vagoni della ferrovia che erano posteggiati alla stazione ferroviaria sono stato a trovarli un giorno che tra l'altro pioveva c'era il fango in giro quindi loro sono rimasti con la gente uno ha continuato il suo servizio al cimitero quindi consolare le persone segnate da un luto profondo ma questo gesto di rimanere di condividere quando sono stato lì mi sono detto Mauro il carisma cappuccino è vivo c'è ancora perché questa è una delle caratteristiche nostre che vivevamo un po' fuori ma sempre pronti ad andare a condividere a sollevare le persone segnate segnate da una malattia segnate da una catastrofe naturale e ciò che mi rende felice è che anche qui tra di voi ci sono alcuni che hanno dato continuità a quell'esperienza perché purtroppo anni dopo un altro terremoto devastante ha colpito questa volta più su Amatrice e quelle zone Lazio e Marche distruggendo molti di voi erano i fratelli italiani no? erano a Leonessa e credo che di notte siano stati buttati fuori dal letto ma in ogni modo una scossa così forte che il giorno dopo siete rientrati subito a casa ebbene il fatto di aver scelto poi di mettere una presenza nostra ad Amatrice e che continua fino a tutt'oggi dopo due anni dal terremoto la gente l'ha apprezzata moltissimo cioè la gente ha detto se voi frati state con noi allora c'è un segno per noi c'è speranza chiaramente qualcuno dirà ma io la mia realizzazione i miei studi io voglio avanzare voglio arrivare quanto prima e invece lì ti si chiede di lasciare tutto da parte per stare con queste persone di perdere il tuo tempo per gli altri cari fratelli per me un detto molto semplice ma che penso è importante tu sei ciò che dai tu non sei ciò che raccogli giorni fa un fratello mi diceva ogni volta che tu vuoi tener fermo qualcosa scegli la morte mentre se tu sei in movimento se tu sei disposto di nuovo a dare ancora questa è la vita e questa è la nostra scelta tu sei ciò che dai il tuo tempio il tempo che tu dai agli altri perdendo tempo e allora arrivo all'ultima cosa che ci tengo a dirvi Detroit Stati Uniti 18 novembre 2017 la beatificazione di Solanos Casey un fratello di origini irlandesi una famiglia di contadini saranno stati credono 16 figli vuole farsi sacerdote va in seminario dicono no 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 non sei dotato non sei sei troppo intelligente meglio che vai dai cappuccini ma non ci è andato subito dai cappuccini si è messo a lavorare a fare diverse cose e i cappuccini quello che non gli andava al Gini era questa barba incolta forse la poca pulizia dei cappuccini non lo so io perché purtroppo ci portiamo dietro questa nomea di non essere molto di non curarci troppo ebbene comunque entra dai cappuccini e chiaramente il suo quoziente di intelligenza non è salito perché è andato dai cappuccini era lui per cui a mala pena riesce a farcela viene ordinato sacerdote ma gli dicono tu ne predicherai ne confesserai cosa cosa gli rimaneva da fare non lo fanno portinaio ma aiuto portinaio la cosa che mi ha colpito più di tutto studiando così leggendo la sua vita è che quest'uomo non si è mai lamentato cioè ha preso quello che gli hanno dato e l'ha trasformato è quello che mi ha colpito moltissimo penso anche nella vita di San Pio da Pietralcina e di Padre Leopoldo immaginate passare la vita dentro uno sgabuzzino piccolissimo ma trasformarlo in un luogo dove passa la misericordia di Dio tu sei strumento di qualche cosa e qui mi rendo conto come spesse volte noi noi ci facciamo vittima non mi hanno dato questo volevo avere quest'altro non mi è stato concesso e quindi cosa cosa vuol dire che noi pensiamo che l'altro deve cambiare perché se sono la vittima è chiaro che sono gli altri che sono che sono i cattivi nei miei confronti i superiori che non capiscono niente il generale non ne parliamo questo frate non si è mai lamentato ha trasformato quel poco che gli hanno dato e tutti andavano da lui tutti e andavano da lui in un periodo difficilissimo della storia dell'Europa degli Stati Uniti perché era la crisi economica che ha toccato profondamente negli anni 20 e negli anni 30 no? e da lì è nata una grande mensa per i poveri che funziona ancora oggi più di 2000 persone tutti i giorni le mense nostre per i poveri sarebbe un altro capitolo da aprire dove qualche volta mi è capitato che i laici volontari dicevano noi lo facciamo volentieri ma dov'è il frate? cioè noi vogliamo che sia il frate qui con noi che si veda che è l'opera vostra dov'è il frate? ebbene quest'uomo ha fatto questo e io ho avuto la gioia immensa di partecipare alla sua beatificazione immaginate in uno stadio di football americano quello che si guadagna 5 centimetri alla volta non i campionati mondiali dove speriamo che la Croazia vada ancora forse in finale con la Francia non so Belgi non ce ne sono tra di noi stavolta c'è l'Inghilterra speriamo no però in questo stadio fuori pioveva di rotto un vento gelido freddo si riunirono negli Stati Uniti 70 e più mila persone per una festa incredibile il primo cappuccino degli Stati Uniti che è salito cioè l'hanno messo l'hanno messo sugli altari un esempio di semplicità di dedizione dove si sente ancora vivo come dire la gente si ricorda di lui o perché l'ha conosciuto o perché hanno parlato di lui fratelli la santità parla ancora all'uomo d'oggi due settimane fa eravamo a Castelnuovo il nuovo Herzog Novi in Montenegro dove è nato il nostro San Leopoldo Mandic e mi hanno raccontato che quando hanno portato le spoglie su e giù è stata una festa grandissima perché la santità parla quindi io termino dicendo fratelli prendete sul serio l'ultima lettera del Papa esultate e giubilate la santità non è qualcosa solo per chi arriva a essere sugli altari la santità è qualcosa che si vive nel quotidiano nell'amore che metto nelle cose che faccio nella disponibilità ad andare dove nessuno vuole andare nel superarmi nell'avere la disponibilità a lasciarmi mettere in questione su tutto quanto la santità nasce penso da una grande semplicità e umiltà e allora possiamo veramente dire che con San Francesco che dov'è pazienza e umiltà ivi non è ira né turbamento grazie